Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene prioritaria la realizzazione di una nuova linea ferroviaria ad alta capacità tra Venezia e Trieste con il primario obiettivo di offrire lo sviluppo del traffico maggi. Queste le affermazioni del Corridoi Tineti per il Ministero Roberto Ferrazza, maggiore di un convegno a Trieste dell'Ince. Ferrazza ha riconosciuto come saggia la scelta di aggredire i colli di bottiglia sulla rete storica, ma ha anche aggiunto, non è mai stata messa in discussione l'alta capacità in sé. Servono soluzioni ferroviarie che non siano un ostacolo dello sviluppo del porto di Trieste e dei porti dell'Adriatico. Tra fare un quadruplicamento ex novo e la linea storica con soluzione dei nodi, c'è una bella differenza a concluso.